E si decolla! A cosa stai pensando? Avanti, dimmelo. Mi sento un po' responsabile di questa situazione. Forse è colpa mia se le dimensioni stanno andando in pezzi. Se io e Recep ci siamo persi. Oh, sì. Beh, ehi, stiamo per aggiustare il tuo comunicatore, è già qualcosa? È vero. Questo è il pub da combattimento 2. Se c'è un posto in tutto l'universo dove puoi trovare il pezzo di ricambio che ti serve, è qui. Spero tu abbia ragione. La distruzione del dimensionatore sembra aver causato una sorta di cataclisma dimensionale. Se non riesco a trovare Ratchet... Tranquillo, Latina. Ti rimetto in sesto. Promesso. Quelle piattaforme devono essere impazzite. Altruzione del nodo. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Prova il parafulmine! Ohì! Quello sì che è un capolavoro! Grazie a tutti. Oh, mamma, e poi lo vedrai riapparire accanto a loro! E poi... beh, prendi il grilletto di fuoco per colpirli ancora! Un pozzo inesauribile di soddisfazioni! Fin tanto che tieni il dito sul grilletto! Devo dire che mi piace! Regalati un potenziamento! Te lo sai meritato! Spiacente! Spiacente! Ti serve più rarità! Sei qui per comprare? Vieni spesso in questo luogo? Sì, questo locale è una specie di portofranco per la resistenza. Spero che l'imperatore non l'abbia scoperto. Benvenuti da Zurkis, il nuovo pub da combattimento intergalattico! Consegnatemi pure i cappotto e tutte le vostre armi! Ormai dovrei esserci abituata! Grazie di aver scelto Zurkis! Mi sia fatta col sorriso! Di solito Zurkis sta dietro il bar. Lui saprà indicarmi il pirata rufanare. Namaste! E che la pace sia con te, Riven! Ehi Zurkis, hai visto in giro il nostro secondo preferito? Mi deve un amplificatore. Oh, oh, oh! Salve ancora, mon cherie! Dammi il pezzo. Mi hai seguito fin qui? È un altro sterile tentativo di sedurmi? Il pezzo, Pier. Ti ha già detto che il mio cuore è impegnato. Eppure... Rusty, Pete? Rusty? Oh, mon dieu! Il tuo amico sembra confuso! Io sono Fiernefer! Pilata, gentiluomo! Ti spido a duello. Tazurkis non è permesso combattere. Andate fuori! Di solito non amo la violenza, ma per te posso certo fare un'eccezione. Sbulloniamo le chioppe! Questa domanda è alquanto equivoca. Ma perché no? Dov'è che ci si iscrive? C'è un terminale su quelle enorme pareti a vetri in fondo. Ti piacerà? Vieni a vedere. Benvenuti, maniaci miei, nella mezza arena di Zurkan Junior! Siete pronti ad assistere alle emozioni, al dolore e alla mazzacra? Stasera, idola del mare, signorinette, potratterà i sorti, i figli pirati! In molti e peraltro, e sarà solo uno, ma che sarà? Oh, mamma. Perché in tutte le dimensioni c'è sempre una roda? Mi affrontate personalmente, ma prima dovete dimostrare di esserne degni! I pirati arrivano dalle fenditure. Trovano sempre nuovi modi per imbrogliare. Guarda, il sincludo, se non fa più tempo, è una classica mossa per i pirati! Ha, 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 ha! Oh! 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 Grazie a tutti 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 Su Grazie a tutti